ciao ragazzi buonasera a tutti comunque ragazzi siamo qua come vedete perché primo giugno oggi siamo qua ragazzi per la justice cup che sarebbe praticamente un torneo di playstation il torneo il torneo ufficiale dove io elzo vi umilieremo squadre di 22 contro 22 contro le coppie sono già fatte chi vedete praticamente che sta dietro chi sta dietro chi sta dietro è in coppia con te praticamente il tuo controller ha un'altra ok lo proviamo manchester city my name is derrick ray and my commentary partner on this occasion is stuart robson and now things get really exciting on the uefa champions league front we're on the semi final stage and what we have coming up is the first line it is manchester city taking on ray alba dre usate audio altissimi c'è l'audio del play della play da togliere è quello che è qui sì qui c'è no anna in vista se l'avevo il la per sera era uscita gundoghagen che per la giunta e mio dove all vai si la puntata sono vai occhio a fine prima volta in voglio unisce il primo tempo siamo dire è equilibrata possiamo dire questa giocando che i tasti sbagliati non ha ancora capito e ma posso dire che si è proprio o i tratti sbagliati c'è qualcosa che non va attenzione abbiamo un po di sprint a sta partita e forza dai dai occhio che secondo me secondo me un paio di minuti arriva l'ordine ah no perché si è bloccato guarda fabio è bloccato tre piccoli minuti tre piccoli minuto quanto altro no lo dico io c'ho paura che sia quanto ti manca no 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 gioca più veloce è lentissimo eh non è proprio il giocatore da fifa deve giocarti la più prendiamo sto facendo esternare nell'orecchio riparte bene bravo bello vai arrivo ad Alain arrivo a un posto no chi è questo? spiegola di voi lo batto io lo batto io ha suonato? no a destra brava brava come da copione grazie fonda la porta bravissima bravissima bravo 2-0 tt pallonetto ho fatto io pallonetto pallonetto di Simo ma l'autogol più amoroso anzi Rudiger vediamo se confermiamo ragazzi Giulia dopo vogliono andare a ballare Giulia la mamma di Lenia mi hanno chiesto comunque vi posso dire una cosa io non ci credo più a questa cosa ne dimostro pochissimi regia una stretta per favore ancora il mio giudizio che può confermare o ribaltare potrebbero essere madre e figlia quando mai siamo coetane che freschi no mi dirai che dice la chat fammi leggere mi sembra che per il registro sarebbe indifferente ma non è un po' che è però ci sta 37 anni ma non mi può dire ma non oramai so così sono coloristici la partita si andiamo andiamo a finire via con un quarto in fascia 10 secondo te la mangio e occhio che valgono anche e quella il mio piede scusa niente vabbè 3 1 con unghie saltare vicino l'ultima occhio vai che c'è l'ultima azione vai che c'è l'ultima azione facendo ritorno bravi lo finisce l'andata 3 a 1 se salviamo fare il ritorno o che noi no dopo ok salvato il cosenza dovrebbe andare mi sono distratta mi farò appena sì sì non trovare scusi beh prova prova a passare mi raccomando quando si tenendo la porta lo schiaccio ma non è non è schiaccio cavettoli eh no voluto dire di potenza portieri non ci sta capendo calma ti devo l'assist battene battene come superiore ragazzi champions vinta vabbè ma il cinico ragazzi i calci piazzati e la loro specialità occhio prima faccio il primo lì che c'è il toro e no combate capo io credo in un'altra persona eccolo buona già erano se ne ero voglio ma come se fece la eccolo la ma non hanno fatto ma non c'è ho fatto ma non c'è 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 in fronte che bugiardo che sei come gioca l'inter voglio manfredo che il gol dell'infame tutto come vuole di fare stava dietro io ho fatto l'assist dove vai ma io voglio sapere mattina mattina appena loro hanno pare di sempre scappare indietro lo faccio credibile 4 a 1 c'è una pausa per voi io 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 butterei il nostro asso ragazzi abbiamo vinto la cosa dell'autogal mi fate fare un gol con cdk siamo a questi livelli almeno si fa dici che ho messo il tubo bravissimo cazzo non ti preoccupare solo che fanno è anche fare la lingua inglese volevano spazio 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 sì 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 si sta roba è tutta finta però ci stavano dietro in attene a 3 a 3 che mi ha fatto il riso ti vediamo che l'idea di certo non si sia classico cerchio quadrato questo è proprio proprio facile volevano segnare così incredibile scrive ha fatto una galoppata vogliono segnare così pallonetto ma fanno palla piena brava scala no no vederci una palla fortissimo ecco perché resta libero mi dà indicazioni contrastanti prima dice che non devo il giocatore no che lo faccio avevate vinto il primo far play ora che stanno con l'asciugamanino impegnati veri ma che impegnati veri o 47 volano sbagliere ma che direttamente da marieco da samarieco e tipo di figlio appunto dei temporeggiare il temporeggio fischi arbitrogano da fa va bene va bene meno ok l'andata è andata l'andata è andata ci vediamo di torresa si tocca il tempo si prima della finale ci vorrebbe veramente l'altra c'è in giallo d'oro dove il giallo andremo a prenderlo proprio ora fate la vostra ormai ma prendiamo ora così voglio di quella e vogliamo cambiare comandi mi sa io sì tu sei o tanti no avete fatto no 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 si ok si parte dal 3 a 1 per la dichiaro mi piace così ok perfetto andremo concentrarci si ma sta cosa che prima ero rossa adesso sono blu il mondo questi bucetti che usano loro di questa squadra qui sono più forti che nostri credo che non riesco a fare niente io pure voglio giocare e fermi 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 star 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 che successe è una carina poi perché parta nessuno ha provato niente ho prenotato io dove stava camera qua non ci posso soltiamo alla fine presa pronto ragazzi zoomate su di noi anzi e sugli altri saltando troppo qua per l'aria del ladro giuventino queste robe qua e poi dopo sembriamo di prendere quando accadono caldi i calmi che non hanno riaperta sì io ho preso la traversa tre secondi fa nei dei quali di quella che vuoi da me questa cosa gran gol posso dire che per favore giulia grazie a calcio ma smetti pure a dire pure peggio così è come diceva bene importante che simpatica è competente calcio solitare vabbè non era così fa vola sì noi ci ho corretto il poco clamoroso amsterdam ci sono tre volte voleva ricordare la salta che io sono blu a io una con te mamma mia ma chi fa la palla piena ragazzi per favore non parlate alta voce che non ci sento diciamo signora ma giugno comunque io andammo ad amsterdam in ban c'eravamo io è una barzelletta anniparuso scherzo 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 chi di hughi chi chi di hughi no quali di massacra non carta della gente no ma volete che mi racconti una fredda no ma se stiamo a parlare da un freddo quello che ha fatto albero e niente ci colleghiamo un po direttamente dalla luce nella partita che passato in secondo piano mezzo e masso rischetto ancora lui una cosa che qualcuno a qualcuno l'ho già detta da altri no che volevo dire che è da un pezzo che non vado a cortina e quindi è da un pezzo che non vado a cortina mamma ma è a livello a livello di ordine troppo anche per me penso per favore ne penso anche se devi farlo adesso è così un prestato bravissimo è tosto è tosto la perfetto una nuova intesa la nuova intesa è partita sentiva mi sa che c'è un problema credibile bravo bravissimo bellissimo dai fate allora se fate che fai mai se fate il 33 ufficialmente il siti vincerà la champions vabbè era bello è che mi aspettavate è tirato l'attenzione di tutti per ma io sono un attimo confusa mi sa che non mi devo far domande però nel dubbio e la mai farsi domande comunque ti chiamo ancora ok passa ora la raga non corre più è giusto la coppa adesso cos'è 5 a 3 il parziale no si acqua se fa gol adesso il city vincente no 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 adesso ormai è finito il gioco vince il siti il gioco era creando occhio al city che cerca il baltone ma quanti quella l'andata di due sono in vantaggio mi sa che finirà così ha fottuto fare l'ordine gelato vero una volta che ha fatto una cosa buona no che è successo che è successo sbagliato poi c'è gente senza ma no fanno fatti ma che si sa che non ci stanno l'hanno giocato veramente se vince l'inter capito per quello fatto solo per l'inter perché ha già vinto allora vanno in finale al finale simone ilenia grandi ezzo merita il soliani scendere abbiamo campo i campioni sono accesi manfre mi sento verso quello che sbagliato grazie vinceremo per voi aspettano già cambiamo i voci voi due eravate alternative classici giusto sì io classico posso mangiare prima dei fratelli legale io ho deciso che mi devo concentrare perché adesso ho fatto un attimo dai signor che sentito non è che sentono sì quella l'unica tua fortuna se quale che tua moglie non vede le dalle chi l'ha detto ma la sta vedendo fai riavvia se con le squadre gioca nova finale di con maio ma un attimo questo qui sistemando si è sentito non si è sentito io faccio distrutto che sono visto chi sono di roma te lo sono ragione viola tu sei viola ma faccio non sono viola chi si trova ancora con le frecce riaggiusti giulia e che vai 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 adesso segno adesso segno scivolata france e cdk per un forse assist forse assi di cica pareggio pareggio si assi di cdk vedi vedi una ragazza fatta la dormita clamorosa non è da voi queste cosa non ha reggiato voglio raccomando che fai segna in cinque si deve avendo un po di paura no ma che per me non so scherzo ai questo vai tirare di capo ma sono un po poco generosi questi mai dagli appareggia la massa dai dietro è stato luca no 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 ma cosa abbiamo sbagliato noi ho sbagliato 1 1 1 1 1 comunque mi dico una cosa quando la coppia avversaria soltà è perché mi teme ma io possiamo chiamare gli autogol che cazzo sto facendo non parlare di un po no 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 ma il morto da tanto anno ma non vedi 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 facciamo un po' di fare mamma mia nel momento ma tra sbagliato migliore la risposta non ti odio perdere basta che non posso può essere che non perde è un anno che per di giulia no no ecco questa facciamo gli ala pareggiando ma rotto so forte è una diecidivo quando effettivamente ma in mezzo tanto bene no 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 sbagliato io è vero perché fatto l'assistema scusa in proporzione cioè pancia più fuori sì ma almeno questa qua dice ragazzi chiamate ma guarda che stavano oggi un po così martedì vengo al programma a martedì mi sa che non ci sono il mio compagno di vissimi squadra passava sempre scusa è voluto esagerare faccio ti prego questo sì lui ha cambiato il fatto il gol siamo siamo sei a quattro è mai mai meno tutto durante se accorto alla fine ma anche però ma no no sì ma giulia ma non vi toglieri a paraticino l2 mamma me l2 grande no tira adesso stanno parlando foto pagina facciano un altro per poter sia che ci credono su mantrasse tanto che ciò che regali sandro palla ma cdk cdk bravi ma meno uno ma anche ti prego ti prego mi devo ricordare questo entro che minuto ha segnato che minuto segna basta ma è partito il treno denzel è partito il treno ma che scambio è stato questo qua fratto guarda tutti che io non so perché prima di venire potuto giocare con ilenia però perché di essere così facciamo glielo un altro popoli vogliamo che è nato da stare atrabi bomba non ci voglio giocare con altre si è convinto che è guarda che salvataggio che ho fatto mamma ma neanche mamma ben poco pulito finita arriva dal finale tra i fischi tra i fischi va bene va bene dai ci rifaremo ma ora finale c'è c'è una regola e diretta che vede bro io sono blu non sta andando neanche a start non sono un joystick a lui mannaggia l'amase come lo sta andando perché c'è i tic i suoi joystick vuol dire c'è dei tic ogni tanto sei un pugno via io non so perché no bravissimo se fai due passaggi vai sono al centro e giocatori più bello bello scatti e vinde bruin quadrato x forte segna va bene anche nei bruni ma il tuo bello è diventata a me la raga possiamo dire che abbiamo un'intesa migliaia e andiamo eccolo bravo sembra un finale già scritto noiosa stafina mamma mia posso dire che legno è fortissimo ma quanta il centrocampo a terra poi lo scelò ma vabbè adesso ormai ci siamo andati un po del pallone sai legna dove è nata legna manchester city se ne scuola vatico il padre è il city no è tu giulia che ha parlato sempre prima contro ogni pronostico ha vinto il city raga per poco grazie grazie nata così siamo una concessa voi bravi rimane comunque un bel ricordo sempre creduto in noi io voglio ringraziare tu grande veramente grande cariato grazie anche a voi allora io ho pensato di portare un regalo sempre grazie giustizia a tutti noi tranne a quelli che hanno vinto i biglietti per la finale se no sembra uno scherzo dai anche anche a voi se no sembrava brutto dai bravi 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 grazie giustizia grazie grazie dai che se no si offende il cliente è giusto così ragazzi no è come quando vai avanti un altro che perde allora è pieno grazie mille giustizia ragazzi spero che vi siete divertiti hanno vinto più forti e gli altri purtroppo ragazzi questa è la vita e tante volte anche nella sconfitta c'è un lato negativo a solo la data 22 grazie a tutti voi che ci avete seguito ragazzi buonanotte buonanotte buonanotte